Grazie a tutti e a Michael Fonz che sono i loro maestri e vorrei ricordare che ballano anche con loro nel gruppo di VivaDash e anche con Michael. Sono i Full Project e tutti li conosciamo ed entrano solo con un grandissimo applauso. Questo applauso mi piaceva. Vorrei ricordare anche che sono i rappresentanti internazionali per Passitos e hanno vinto in Spagna, primi classificati giusto? Hanno portato l'Italia fino là. Quindi un ulteriore applauso anche per questo. Signori e signori, sui Provo. Grazie a tutti. 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 la gente A presto, a presto, a presto, a presto, a presto. La prima vera Mi sento questo applauso Un progetto Vengono da lontano eh lontano eh Vengono Poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti